Io sono Mario Greco di Cooperativa Letteraria, che è l'associazione culturale che ha il piacere e l'onore di ospitare questa sera al circolo dei lettori Andrea Ferraris, che è un autore a noi caro anche perché ha realizzato una delle copertine di uno dei numeri della nostra rivista Fori Asse, il cui tema era la Pietas. Con noi questa sera c'è anche Alice Ravinale, che ringrazio per aver accettato di mettersi in dialogo con l'autore. Ovviamente il ringraziamento al circolo dei lettori, che come al solito ospita le nostre proposte letterarie. Partiamo con questa presentazione del tuo ultimo lavoro, che è temporale, edito da Oblomov Edizioni. Nel frattempo, vedete, scorreranno alcune immagini del fumetto. Io mi sono divertito oggi un po' a scrivere, faccio una breve introduzione, poi cercherò di stare un po' ai margini, e mi sono divertito a scrivere i nomi dei personaggi di queste 15 storie, poi capriamo, entreremo bene nel dettaglio, perché, capriete bene perché, Spock, che è il protagonista principale, Ufo, il cui vero nome è Mario, quindi mi sono rispecchiato abbastanza, Kegan, Onda, Bomba, Rumba, Pongo, Spadino, Barba, anche il cane, che si chiama Fiume, Sara, Vollo, metà volpe e metà... Vollo è l'unico vero, perché sono tutti in invenzione. Tabacco... Ecco, e poi, per entrare un po' nel testo, è uscita in questi giorni, nell'ultimo numero di Internazionale, una bella recensione di Francesco Boile, e ho estrapolato un breve passaggio, perché l'ho trovato molto significativo, e poi mi sono soffermato, sviluppato due punti. Lui scrive, a metà libro si capisce di avere davanti un capolavoro. 15 capitoli scorrevoli, ma di grande intensità. Quasi tutti degli haiku, spero di averlo pronunciato in modo corretto, reinventati. Pregnanti, perché pare di stare in osmosi con questa comunità di giovani del mondo rurale. Ecco, gli haiku sono quei componimenti giapponesi brevi, che sono tre versi e 17 more. Sono andato anche a studiarmi cosa sono le more, che determinano appunto, sono quell'unità di misura del suono che determinano la durata delle sillabe. Infatti abbiamo le sillabe. Lo scopro adesso da te, eh? Sì, sì, ma anche io l'ho scoperto stasera, mi sono divertito, perché questo è il bello di leggere anche i lavori, le recensioni altrui, andare anche a ricercare un po' quelle che sono i riferimenti. Boile è bravissimo a inventarsi delle cose. Certo. E a maggior ragione, dopo questa recensione, posso dire che è bravissimo. È bravissimo. Molto bravo. Allora, Temporale, diciamo che fondamentalmente è un libro che parla di tempo e di memoria. Per me è temporale, la parola temporale è una figura retorica che contribuisce a creare il senso e a evocare un'atmosfera. Però è anche una formazione atmosferica, no? Certo. Quindi c'è le due cose. C'è le due cose, grazie. Sono 15 capitoli degli haiku reinventati e ogni capitolo, la bellezza, è che ogni capitolo è ridotto alla sua essenzialità. Cioè devo dire che Andrea, oltre a padroneggiare il medium fumetto, in quest'opera ha padroneggiato anche la narrazione breve. No? Che non è facile. Che non è facile. Quindi sei veramente, sei riuscito a ridurre tutto a quell'essenzialità che però restituisce veramente tutto. Alcune storie sono state tagliate con mio rammarico, però mi sono dovuto fidare di chi naturalmente ha fatto una lettura del libro, no? E quindi diciamo alcune cose con rammarico si sono perse. Lo dico adesso, però in realtà questa cosa qua secondo me un po' ha anche funzionato, perché questa essenzialità ritorna alla fine, ecco. Cioè non c'è la stanchezza. Alcuni forse mi hanno detto, speravo durasse ancora una ventina di pagine, no? Però va bene così, no? No, secondo me va bene così. Io poi, a me piace fare sempre delle riletture, no? Perché comunque non ci si deve mai fermare a una prima lettura. Quindi già alla seconda lettura ho iniziato a respirare di più l'atmosfera. Quindi sono 15 storie e tu riesci a dare l'effetto, ancorché sembrano 15 storie apparentemente separate l'una dall'altra, no? Perché comunque fai... Perché lo sono, lo sono. Lo sono, però riesci a dare, a restituire, a creare quelle tante immagini in successione. Cioè riesci a garantire, no? Che queste storie in realtà siano un unicum. Almeno queste sono le mie impressioni. Avevo scritto tanti piccoli scatti, però in realtà non è la fotografia, sono tanti piccoli pezzi musicali, perché anche qui poi sono andato a leggermi anche le interviste, perché poi sentire anche la voce, insomma, diretta dell'autore contribuisce a chi... Sì, io non sono capace di suonare niente. Anche questo è un grande rammarico, perché mi sarebbe piaciuto suonare uno strumento. Questo libro, se fossi stato un musicista, sarebbe stato un album musicale, perché l'ho proprio pensato in quel modo. Quindi, diciamo, sono tredici pezzi, c'è una intro, c'è una canzone che chiude l'album, e ci sono dei piccoli pezzi che sono appunto delle piccole canzoni. In mezzo ci sono un paio di ballate, e queste ballate sono i pezzi più lunghi, i racconti più lunghi, che tengono, secondo me, insieme, come un filo, tutto il racconto. E sono con il protagonista Spock, Roberto, che però in realtà, diciamo, è il mio alter ego. Sono io. Anche perché si vede dalle orecchie... Dalle orecchie di Spock. Quindi, tanti piccoli pezzi musicali che si susseguono per formare la sensazione dell'inizio di un temporale, perché il temporale è fatto di lampi, suoni e immagini in successione. Quindi questo, ecco perché io oggi ti dicevo, il titolo comunque per me l'ho trovato... Sul titolo ci sarebbe da dire delle cose, infatti ne parlavamo prima con Alice. Il primo titolo, che è quello che è durato per me, perché la gestazione di un libro è lunga. Per me questa è durata più di due anni. Cioè, il pensarlo, la scrittura, le varie trasformazioni che ci sono durante il tragitto. Per me il titolo è sempre stato Giù nella valle. Sempre. Perché Giù nella valle, in ogni racconto, c'è un pezzo che succede, qualche cosa Giù nella valle, e la valle, che è la valle della mia infanzia, dei tempi in cui passavo le stati laggiù, era un luogo mitico, perché di notte intanto era pericoloso. Cioè, non sapevi che cosa succedeva Giù nella valle. Ma nella valle poteva succedere qualsiasi cosa. E nel libro, infatti, succedela qualunque. Per fortuna non eravamo ancora andati in stampa. Succede che io apro Facebook e mi trovo davanti un post di Enaudi in cui fanno la presentazione del libro di Cognetti che si titola Giù nella valle. Allora, quella sera sono mezzo svenuto perché per me il titolo era quello e poi a quel punto ho detto, vabbè, può succedere, d'altronde cose sono così. Meno male che non siamo usciti con lo stesso titolo, no? Perché intanto Cognetti è Cognetti e io purtroppo sono Andrea Ferraris. Ma la cosa più grave era che sembrava che io avessi copiato lui. E quindi abbiamo deciso per temporale che però in realtà forse addirittura ormai lo sento che funziona meglio. E quest'altra cosa è un'altra cosa che è interessante perché chi racconta, chi scrive delle cose si innamora di alcuni momenti, della scrittura, di alcuni passaggi e fa fatica ad abbandonarli. È per quello che serve poi un editing che sia serio, no? Che ti aiuti a capire le cose che bisogna levare. E in quel modo lì ti devi mettere in mano a qualcun altro, ti devi fidare, come ho eliminato qui il racconto di cui ti parlavo, ho accettato che il titolo diventasse un'altra cosa. Comunque il titolo forse, lo chiedo a mia moglie che ha fatto tutti i colori, l'avevo trovato io. No, l'aveva trovato, no, l'aveva trovato una mia amica di Treviso. Sì, una mia amica di Treviso che ha letto il libro in anteprima e mi ha consigliato dicendo una forse e poi un'altra persona che vive in una situazione di paese che mi diceva una forse e ci deve essere qualcosa di atmosferico perché tutti i racconti hanno qualche cosa che li collega all'ambiente. Quindi il temporale... E poi, vabbè, poi il temporale è anche altra roba. Il mondo della natura. Qui si vede nelle sue due forme. In modo assoluto, cioè svincolato da tutto il resto, e in rapporto con l'uomo. Un'altra cosa bella è che, me l'ha ricordato Andrea, in realtà anche io avevo visto queste tavole in anteprima durante il tuo incontro con i ragazzi del liceo Cottini. Non me lo ricordo. Sì, l'avevo portato. Sì, sì. Ed erano rimasti entusiasti ancora oggi. Mi hanno ricordato l'incontro con te e con la sequenza. Perché nel momento in cui ci lavori su un racconto, su una storia, chi lo scrive, chi lo racconta, questo me lo diceva anche G.P., noi narratori possiamo diventare anche pericolosi. perché appena incontriamo qualcuno raccontiamo quello che stiamo facendo, che è egocentrismo, ma non è solo quello, è anche mettere alla prova quello che stai facendo. E ogni volta che lo racconti ti accorgi che c'è sempre qualche cosa, un piccolo particolare, che sei il primo a capire che non va, che non funziona. e quindi ossessivamente continui a mettere alla prova questa roba con chiunque entri in casa. Beh, lì lo hai fatto anche per loro, per fargli spiegare come lavora un autore. Sì, però è anche per quello. Sì. E poi alla fine ti accorgi di avere la storia in mano quando veramente con quattro parole la stai raccontando. Allora dici, allora ci siamo. Sì, poi ci sono le... il fiume prende tante strade, però ti è chiaro quello che stai facendo. Perché non è sempre così. Secondo me è per tutti. No, no, ma... Bene, Andrea Ferraris, mi sto allontanando e quindi sto per cedere la parola ad Alice. Andrea Ferraris ovviamente è un autore Disney. Ha i suoi fumetti da autore indipendente. sono Curubuscu Curubusco Curubusco La lingua del diavolo in bianco e nero rigorosamente in bianco e nero quindi opere a sfondo storico e sociale La cicatrice che in realtà è lì un reportage poi c'era Una zanzara nell'orecchio che è un memoir personale insomma che ha vinto il premio Festival Emilio Lusso nel 2022 se non mi sbaglio sezione narrativa a fumetti e adesso è arrivato temporale su Alice non dico nulla perché sono rimasto sono andato a leggermi il suo curriculum posso solo dire che sono rimasto folgorato perché è attiva su molti su molte cose della vita della comunità no? che sono importanti e quindi vi invito per chi non la non la conosce vi invito ad andare a cercare insomma chi è e che cosa fa però sono onorato insomma di averti qui questa sera io ti lascio la parola grazie grazie mille grazie a voi per avermi invitata io sono su questo palco perché io anni fa non ricordo quanti Andrea l'ho conosciuto proprio in quel modo che raccontava prima che lui giustamente con grande umiltà dice il tarlo dei narratori di chi sta lavorando è una storia ma per me rimane un momento penso uno degli incontri più memorabili per come è nata un'amicizia perché per un caso fortuito totale cioè amico in comune che lo incontra sul treno lo vede disegnare già è vero si si ricordo mentre viveva a Parigi noi ci incontriamo per la prima volta in un bar a Belleville se non ricordo male no a Gardeleste a Gardeleste ecco ricordavo male con le tavole di ciurubusco che in quadernoni alti così ci vennero narrate sfogliando queste pagine e insomma rimasi io e mio marito folgorata ed è stato alla nascita di una bellissima amicizia sono veramente molto contenta di tornare qua perché se non ricordo male avevamo presentato insieme la cicatrice qui qualche anno fa ma anche ciurubusco ti ricordi eravamo al sì certo da Malvina in San Salvario la Trebisonda quindi questo così dato biografico ma per dire continua a farle quelle narrazioni di storie perché a te saranno utili come narratore ma chi sta dall'altra parte si diverte si diverte moltissimo allora questo questo tuo lavoro questo tuo capolavoro che è uscito con Oblomov e che ha questo titolo hai già raccontato che il titolo doveva essere un altro però questo titolo temporale che ritorna come fenomeno atmosferico ma anche come momento di cambio diciamo e poi c'è tutta una storia di una scommessa e si unisce a un altro elemento di cambio nel tempo questa storia incredibile di questo meteorite che se hai voglia ci racconti a me leggendolo questo libro che racconta della provincia io direi in maniera e quindi anche del tempo che sembra fermo in realtà poi diventa un libro sul tempo che muta che cambia che ogni tanto non ce ne accorgiamo nemmeno c'è la storia forse una delle finali quella di Marcello ecco che esatto che è definitivamente una storia sul tempo che non c'è più sul tempo che cambia che va avanti ecco se hai voglia di raccontarci qualcosa su questi due specifici elementi il temporale da un lato il meteorite dall'altro come si intersecano con questa tua playlist come l'hai definita in una intervista il meteorite è una storia che mi ha raccontato il mio vicino di casa è una storia vera successa davvero e che io come sempre registro e metto in un cassetto perché sentivo che mi stava raccontando qualche cosa che era importante ed è la storia di questo meteorite che entra nell'atmosfera terrestre e punta diretto sull'oceano indiano quindi una gigantesca massa d'acqua in quel momento nell'oceano indiano sta passando un veliero che fa da spola tra le Indie e dalle Indie fino a Genova e sta trasportando dei tessuti dalle Indie appunto in Europa il meteorite che entra dentro l'atmosfera terrestre lo centra in pieno sfonda il primo strato della nave e si ferma solo grazie al fatto che i tessuti gli impediscono di proseguire naturalmente i tessuti prendono fuoco c'è una pagina che sta per passare che vedrete i tessuti prendono fuoco i marinai con fatica riescono a spegnere l'incendio e il meteorite a quel punto diventa una pietra fredda diventa di proprietà di diritto del capitano che se la porta a casa è il bisnonno di questo signore che vive vicino a me lo passa al nonno lo passa al padre e di conseguenza arriva ad un ramo della sua famiglia che poi lo perde durante un trasloco però questa storia qui io l'ho messa nel mio cassetto particolare del cervello perché mi sembrava che stesse raccontando qualche cosa che mi potesse servire e in effetti ad un certo punto io ho capito a cosa mi serviva perché quelle che racconto sono delle vite di ragazzi straordinarie come c'è scritto nella quarta di copertina perché questi ragazzi che io ho frequentato quando facevo le vacanze estive in questo paese naturalmente li ho ritrovati molti anni dopo cambiati ma in qualche modo uguali la loro vita ho avuto l'impressione che potesse cambiare solo se un elemento straordinario potesse intervenire il meteorite che li potesse colpire e quindi ho inventato la storia di Spock di questo personaggio che è il mio alter ego che viene quasi colpito da una ragazza di cui è innamorato e questo elemento che questo scontro questo quasi scontro è l'elemento meteorite e e la ragazza glielo dice proprio gli dice guarda io credo che nella vita esistano dei momenti meteorite e e questo è uno di questi uno di questi momenti stacco loro sono sono a letto insieme si capisce che nasce una storia d'amore e che quindi la vita di questo ragazzo che sembrava segnato in un certo modo può cambiare è un po' il cuore del libro non è che le vite degli altri siano tristi tutt'altro loro hanno hanno risolto il problema della della solitudine in modi differenti e in modi assolutamente straordinari e in questi capitoli che che racconto ognuno di loro la risolve a modo proprio c'è chi trova un rapporto particolarissimo con il cane gli lascia addirittura il segno facendo la pipì lungo il percorso che poi sa che farà col cane e il cane immancabilmente va su quel segno per dirgli guarda che ho capito che mi hai lasciato un messaggio oppure non so in modo quasi alienato trova conforto in tanti piccoli tic che però gli danno il senso della vita ci sono tante storie di questo tipo alcune naturalmente io non ho mai non ho utilizzato queste storie così come sono le ho un pochettino mischiato mischiato le carte ho cambiato i nomi dei personaggi ho fatto dei cambiamenti come fa un romanziere fondamentalmente però credo che quello che sia rimasto sia un nocciolo di verità che potrebbe far credere a ognuno di loro di essere il protagonista di queste storie e io devo dire che non è vero ma posso dire anche che in fondo hanno ragione una di queste storie che è una di quelle che stanno passando l'unica storia completa che ho messo è un racconto vero e questo posso dirlo perché mi è stato raccontato da questo amico che mi ha permesso di raccontare questa storia e al quale ho regalato il libro ed è la storia di come nella valle c'era questa piccola baracca che loro sono riusciti a rimettere a posto e che frequentavano invece di andare al bar era in realtà una sorta di centro sociale per loro una sera alla festa del paese hanno incontrato un inglese che è il dato esterno di tutta la faccenda e questo inglese loro l'hanno riconosciuto come uno di loro in modo forse magico e per fare un regalo lo hanno invitato giù nella valle ma questo inglese una volta che stava scendendo di notte giù nella valle ha tornato da quattro persone che non aveva mai visto si è spaventato ha avuto una crisi di panico e ha cominciato a urlare per calmarlo hanno dovuto dare delle camomille delle camomille potrebbe essere delle camomille e anche altre cose e infatti alla fine della pagina loro stanno giocando a carte mentre lui se la dorme tranquillo in fondo è una cosa bella è una cosa poetica perché apparentemente loro sono un gruppo chiuso e però invece in realtà sono pronti ad accettare il diverso e quindi diciamo basta essere disponibili per poter entrare ed è una cosa che secondo me si è un po' persa anche in città senza dubbio giusto ma e invece scusa le scommesse sul temporale? le scommesse sul temporale invece ha una una base più importante più culturale perché io mi ricordavo di un libro di Simenon molto bello in cui c'era una scommessa simile e allora ho detto questi ragazzi potrebbero fare una scommessa sul temporale siccome io poi sono dopo il viaggio in Irlanda sono diventato un grande appassionato di whisky e il whisky non lo posso più bere perché ho la gotta allora mi permetto nei racconti di farlo bere agli altri e questo whisky che è un whisky di grande qualità diventa il centro di questa scommessa e la scommessa è chi va più vicino ad indovinare il giorno in cui arriverà il temporale che segna la fine dell'estate perché un tempo c'era questo temporale arrivava intorno alla festa del paese intorno al 20 di agosto qualcuno ci poteva dire i primi di settembre ed era troppo in là oppure qualcuno poteva dire i primi di agosto ed era troppo presto qualcuno questa scommessa poi lo vediamo nel libro non spoilerò tutto però diciamo qualcuno la vince e si permette di bere del whisky di grande classe connemara il connemara ottimo whisky peraltro mi è venuto in mente mentre parlavi che il temporale torna in un altro dei tuoi libri perché una delle tavole conclusive di una zanzara nell'orecchio che per me rimane la più commovente delle tavole che tu hai fatto ah c'è il temporale si apre proprio in una Genova terza in cui una mattina dopo il temporale succedono cose ma questo lo lascio a chi non l'avesse letto consiglio anche anche quel libro hai ragione non ce l'avevo pensato mi è venuto in mente adesso mentre parlavi e invece c'è anche una storia tra le tante che hai raccontato adesso non mi sono segnata le pagine che però sembrerebbe una storia di chiusura no? quello dell'uomo che difende le sue galline che sta esatto che sta forse all'estremo opposto di quella apertura perché però in realtà diciamo come dice anche giustamente il suo internazionale Boille questa provincia è anche un po' intrisa da questo populismo di destra diciamo un po' qualunquista in cui il nemico è sempre una cosa che non sai bene di cosa si tratta in realtà lì c'è perché è la volpe e la volpe entra nel cortile per rubargli le galline per ammazzargli le galline allora dai racconti un pochettino esagerati nella parte che ho disegnato ma diciamo neanche troppo distanti dalla realtà il tipo che è barba e che qualcuno qua potrebbe anche conoscere si chiude nel giardino per difendersi da questa da questa volpe che arriva e lui di persona mi ha mi ha mostrato tutte le trappole che aveva c'ha delle trappole da lupo c'ha un sacco di roba di difesa personale mica da poco e e che utilizza per per questi animali diciamo è uno che sa sai conosce tutto della campagna per cui se si chiude una finestra sa che cambierà il tempo perché arriva al temporale dall'altra parte insomma è uno che legge la natura e e però diciamo tutto questo tutto questo suo sapere in realtà è chiuso dentro questo cortile e addirittura addirittura dentro una gabbia si chiude per difendere le galline visto che la volpe è più furba per difenderle all'interno della gabbia con le galline e le galline naturalmente spaventate dalla sua presenza non fanno più le uova quindi diciamo chiude il cerchio la volpe gli mangiava le galline lui non poteva avere le uova le galline non gli fanno più le uova perché lui le difende spaventandole ma poi è anche istruttivo perché comunque poi ti fa vedere anche cioè spiega anche che è una volpe non una faina ad esempio sì perché perché la faina uccide per gli avrebbe ucciso tutto il pollaio perché non lo fa per questi animali ci sono ormai da noi abitualmente ieri ero sono andato in paese a tarda sera per una riunione e entrando dentro il paese mi sono ricontrato adesso mentre ne parlavamo c'era una volpe che si era probabilmente ferita ad una gamba andava su tre zampe e io ho rallentato con i fari la guidavo e questa volpe velocissima su tre zampe andava avanti finché non si è infilata in un cortile e lì l'ho dovuta abbandonare cioè anche perché comunque non sapevo cosa fare per cioè sono ormai tra di noi come pure i cinghiali come tanti altri animali ormai la natura ha preso sopravvento tanto è vero che dico anche che che le strade si perdono no? non ci sono più e queste strade si intravedono appena per me è un grande piacere disegnarle perché veramente sembra di vedere quasi dei fantasmi no? di un tempo che c'era di un tempo che è passato io vi interrompo un secondo perché qui c'è Daniela che ha fatto i colori e Daniela ha fatto i colori e io vorrei che Daniela prendesse il mio posto qua e che si unisse anche lei alla conversazione perché secondo me dà lei più valore rispetto a me Daniela non voleva è meno egocentrica Daniela condivido anche perché anche io sarei passata diciamo alla parte anche perché di storie ne hai raccontate non ne raccontiamo oltre altrimenti poi spoileriamo troppo sicuramente il vantaggio un pregio enorme di questo libro è l'essere a 360 gradi quindi non c'è una descrizione appiattita ci sono vite straordinarie di uomini comuni con lati condivisibili lati meno condivisibili come è la vita esattamente quindi devo dire che però lo hai reso davvero molto 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 bene passavo anch'io e ringrazio Mario perché insomma Daniela poi lo vedrete chi non ha ancora il libro per quanto è prezioso il lavoro che anche lei ha fatto su questo libro questo è un libro di colore e questa volta il colore ha un ruolo predominante molto più che nella zanzara secondo me è un libro d'atmosfera esatto e quindi il suo colore è fondamentale raccontateci però perché è interessante anche se vuoi dire quella cosa dei fogli ah in effetti c'è molto da dire sul tenere nel senso che è stato se non ti dico come si accende guarda tu riesci a accenderlo ecco no dicevo che è stata una lunga ricerca che è partita dai fogli d'acquarello che dovevano tenere il suo segno quindi non sciogliere troppo con l'acqua dell'acquarello il suo segno perché non è un segno a china usa una matita molto grassa una matita grassa esatto che lascia naturalmente una traccia particolare sul foglio che è un foglio d'acquarello quindi un foglio granoso e abbiamo fatto delle cose e beh alla fine abbiamo trovato dei costosissimi fogli d'acquarello fatti a mano 100% cotone e vabbè abbiamo fatto tutto il libro così è stata una follia però però sono bellissimi e davano questo effetto che potete vedere un po' vattato che si differenzia un po' da quello dell'acquarello classico che rimane molto macchiato e che è già molto già visto insomma perché tutti poi lo hanno usato perché si presta bene anche con la tecnica di macchina ma anche perché l'acquarello ormai se fai l'acquarello in un certo modo sei subito gipi vabbè devi essere bravo perché lo puoi fare non tutti però anche quelli bravi poi rischiano di essere di diventare delle copie invece in questo caso alcuni mi dicevano mi chiedevano ma cosa ha usato l'acquarello effettivamente non sembra quasi sì perché un po' questo foglio che si bagna molto quindi doveva andare anche molto carica col colore perché le prime volte che l'ho usato questo foglio si quando si asciugava spariva perché assorbe tantissimo è proprio una cosa tecnica particolare ma a noi quello che piaceva è che intanto non si perdeva troppo il suo segno e poi dava questo effetto un po' vattato che si prestava bene con questo lato molto poetico che lui ha voluto dare al libro principalmente questo poi anche sulla scelta dei colori abbiamo deciso di farlo molto colorato ma anche io ho tenuto questo grigio di pine che è quello che vedete lassù per esempio degli uomini nel cielo lassù sempre in tutto il libro per fare le ombre per fare i monocromi e poi le luci spesso sono date soltanto dalle luci dell'ambiente dalle luci artificiali in alcune storie sono proprio l'ombra e la luce che colora le varie luci che abbiamo deciso di utilizzare comunque si decideva insieme come è lavorare insieme perché questo è ormai siamo abituati questo l'avete concevito insieme noi siamo tutt'uno non è scontato funziona siete rodati sul racconto della storia lei non partecipa no non partecipa proprio a un blocco non vuole neanche sentirmi no è vero sento quando li racconto sento quando li racconto li racconto agli altri però in realtà non interviene no no però naturalmente in qualche modo l'atmosfera la sente e quindi quasi per ogni racconto abbiamo chiacchierato un po' su su che tipo di tipo di colori e adesso stiamo facendo lo stesso per il nuovo libro anche però per il nuovo libro che è più di 200 pagine abbiamo deciso che questi fogli sono troppo cali non ce li possiamo permettere quindi facciamo tutto il flashback con questi con questi fogli per dare un po' questo senso e il resto del libro invece utilizziamo la rosa spina la rosa spina che non è un foglio d'acquarello però però funziona però ci sembra che funzioni speriamo perché non abbiamo ancora proprio tanto provato il libro su Genova quindi fogli li avete i fogli li abbiamo già presi tutti ecco no ma raccontaci il prossimo visto che siamo sul sul prossimo libro perché questo io insomma sapevo che c'era in animo questo libro su Genova da tanto tempo da tantissimo tempo poi il Monferrato ha preso il sopravvento o com'è andata? ma sì perché le 200 pagine mi spaventavano perché le 200 pagine significano per me due anni di lavoro un'enormità senza vedere la fine di questa cosa quindi bisogna tenere una tensione per due anni è troppo invece questo libro qua mi ha permesso intanto anche in fase di scrittura di essere un po' più leggero perché potevo concentrarmi su un racconto alla volta e poi anche in fase di lavorazione chiuso un piccolo capitolo potevo respirare e dire ah questa è chiusa passiamo ad un'altra cosa perché il difficile è davvero io davvero apprezzo tantissimo quelli che fanno questi libri giganteschi enormi perché capisco la difficoltà a farli cioè davvero è una tensione che devi tenere chi fa un film che ha delle difficoltà gigantesche enormi che non possono neppure immaginare però il film poi in tre mesi è chiuso cioè si parte si gira e poi si deve montare ma qua invece tu sei dentro una sensazione un'atmosfera una una particolare emozione che ti deve durare per due anni è difficile a maggior ragione per me che faccio anche fumetto popolare perché quando faccio Disney faccio paperino paperone cioè c'è un certo tipo di racconto quando rientro in questa roba è sempre una grande fatica ecco ma quando scrivi quando sei ormai lo fai diciamo come tu tu sei un autore di fumetto la scrittura però per me è ancora una cosa aliena però quando scrivi quando disegni le tue come si interseca il tuo lavoro per Disney il disegno dei paperi si interseca semplicemente perché arrivano delle commesse ma sospendi come funziona non sono stereo sono mono e quindi sono costretto a fare una cosa per volta purtroppo questo difetto eh no ormai non dovrei perché il lavoro è così spezzettato è così difficile ormai che devo fare tantissima roba ora ne arrivo da un viaggio di quasi un mese tra Bruxelles Canarie e Marocco e da questo viaggio devo tradurre in immagini una serie di cose che ho vissuto che ho sentito fatte quelle c'è una storia Disney mi aspetta e poi rientro nella storia di Genova però non ho scelta però se posso dire alle volte è anche una buona cosa prendere questo distacco perché quando ci sei troppo dentro magari non vedi delle cose no? poi quando ci ritorni magari le cambi no? alle volte succede eh però non finisce più questa cosa qui eh lo so sì è una cosa ma infatti io spesso sto lì a dire no ma va bene lasciarlo così è già bellissimo sì se no cioè veramente in effetti c'è un'ultima cosa che voglio dire che tutti i miei libri sono legati con un filo alla musica perché Ciuro Busco per esempio nasce da un l'idea nasce da un cd di Ray Kuder e dei Chifters che raccontavano la storia delle battagioni di San Patrizio questo per esempio ha una colonna sonora particolare cioè per esempio io penso a Tom Waits di Blue Valentine oppure Petsound dei Beach Boys c'è c'è una canzone di Kavinsky che è Night Call che io sentivo come la tossera perfetta per quel tipo di racconto e raccontava in effetti facendo la traduzione di una macchina che si muove tra le colline e io ancora non lo sapevo quindi avevo percepito questa cosa il prossimo su Genova di nuovo si intitola Senza Show Senza Fiato ma Senza Show è anche uno dei gruppi musicali genovesi più importanti della scena genovese degli anni 80 cantavano quello che si chiama Ragamuffin in genovese e loro sono stati i miei idoli io quando li vedevo suonare capivo che questi avevano qualche cosa che non riuscivo a percepire ma ora so che cos'è un'energia una potenza che mi rapiva mi faceva cadere per terra per me sono stati davvero una specie di faro e quindi dedicarò il libro poi non so se si intuola la Senza Show magari qualcuno lo dico perché così magari in Audi esce con Senza Show giù nella valle l'avevo scritto su Facebook in molte occasioni in molti modi non vorrei che ma 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 quanto dobbiamo ancora aspettare per Senza Show dipende perché io vorrei dividere il libro in due in due parti quindi se riesco a dividerlo in due parti la prima parte ce l'abbiamo entro la fine dell'anno ottima se invece non riesco a dividerlo in due parti e non è che non sono io che è l'editore che mi dice non lo dividiamo in due parti a quel punto ci vuole un altro anno ok ci rivediamo se siamo ancora no invece senti un lavoro che tu stai facendo adesso l'hai detto un passante di questo viaggio che hai fatto tu stai facendo anche un lavoro molto significativo di graphic journalism lo chiamerei così anche per internazionale sul tema cruciale del nostro tempo che è quello delle migrazioni ma proprio anche dei confini tu sei stato hai fatto un lavoro eccezionale dal confine tra il Messico e gli Stati Uniti la cicatrice anche questo io mi permetto di consigliarlo a chi non l'avesse letto e adesso sei stato appunto da poco in Marocco a Gran Canaria eccetera e a Bruxelles e a Bruxelles a Bruxelles ho lavorato su là ci sono sempre delle persone che mi attendono perché il lavoro è legato all'Università di Genova e quindi rientra in un'organizzazione molto più grande a Genova i ricercatori hanno quelli che loro chiamano delle antenne e queste antenne sono dei personaggi che vivono sul luogo e hanno già molti contatti io quando vado sul luogo entro in contatto con queste antenne e mi mettono in circolazione sul territorio quindi ho fatto a Bruxelles un lavoro sulle case occupate dai migranti e poi sono andato a Gran Canaria dove invece ho incontrato un ragazzo nigeriano che aveva fatto un viaggio che ha fatto un viaggio su un grande cargo sopra il timone di una nave per 14 giorni è stato su questo timone e l'ho incontrato lì che giocava a pallone quindi sta benissimo sta in gran forma e poi sono andato ad Acla invece che credevo fosse in Marocco che credevo fosse un porto di partenza invece si è rivelato essere ormai una città in cui i migranti soprattutto dell'Africa nera vanno per lavorare e guadagnare i soldi per potersi pagare il viaggio che è sui 5-6 mila euro nel tentativo di arrivare in Spagna o in Gran Canaria ecco dopo aver letto la cicatrice evidentemente tu non hai alcun problema a farlo ma quanto è difficile condensare in poche immagini alla fine perché poi non hai questi lavori soprattutto quelli che vanno poi su internazionale eccetera sono lavori molto asciutti essenziali quanto è complicato quando ci si trova ad avere a fare con realtà così diciamo forti anche dal punto di vista umano emotivo riuscire sapendo anche quanto poi quei disegni sapranno convogliare un messaggio fondamentale a un pubblico che grazie all'illustrazione diventa più ampio perché poi evidentemente speriamo senza dubbio però ha quella forza quindi io faccio una grande scelta tra le cento cose che ho incontrato ne scelgo una poi alla fine quella più prepotente viene fuori anche quella più vicina ai miei gusti e allora se trovo qualche lato un po' più poetico dentro queste storie che sono in realtà storie di grande sofferenza ecco che la racconto con più facilità cerco perché poi e noi ti ringraziamo per come le racconti non so se se ci sono delle domande esatto se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda ecco ma stai parlando di grazie perché ma anche di Genova poi in Italia ha una bellissima storia che non è che fosse in Italia ah sì e e quella è stata sì sono quelle commissioni che mi piacciono perché naturalmente funzionano molto bene e lì siccome il direttore di cine è Massimo Colella che vive a Parigi e che io conobbi a Parigi durante la mia permanenza lui ha subito pensato quando il giornalista gli ha proposto la storia a me come disegnatore e ha fatto bene perché naturalmente la storia dei portuali genovesi io ne avevo sentito parlare però non l'avevo non ero sceso nei dettagli è stata l'occasione per me di incontrare i ragazzi del Calp che sono il collettivo che che tende a a non far imbarcare armi su le navi ci provano almeno e parlare con loro chiaccarare con loro e quindi costruire il racconto della loro resistenza è un po' diverso questa cosa dell'università di Genova perché lì in realtà loro in qualche modo sperano da quello che ho capito perché non è ancora tutto chiaro però diciamo da quello che ho capito loro sperano che io andando lì possa dare uno sguardo alle cose che loro raccontano in un modo un po' analitico un po' alle volte anche un po' freddo che gli possa dare comunque un punto di vista differente ecco quindi stiamo raccontando le stesse cose loro da un punto di vista sociologico io invece da un punto di vista un po' più artistico questo sdoppiamento sperano possa permettere a questi temi di avere un po' più di pubblico quello di Genova la review dei cine purtroppo fatica un po' a prendere quindi so che nonostante sia molto interessante hanno proprio difficoltà ad andare avanti cioè mancano manca il pubblico ancora non è la Francia c'era un'altra domanda le riviste in Italia sì laggiù allora io sono nato in un piccolo paese e sono cresciuto lì poi me ne sono andato ho visto hai incentrato le tue storie sulla provincia e mi pare tu abiti da due anni sono lì nel paese sì ok sono tornato al paese ok e quindi volevo chiederti perché hai fatto questa scelta e che cosa diciamo uno o più aspetti che ti piacciono della provincia e quello che ti piace di meno invece la scelta sai è stata anche un pochettino perché i miei genitori sono anziani e quindi io mi sono dovuto avvicinare ma come il mio personaggio della storia il primo personaggio quello che è poi il mio alter ego ho sempre pensato a a quel tipo di vita come un tipo di vita che potesse abbassarmi i consumi e permettermi perciò avendo bisogno di meno di avere più tempo per fare le cose che mi interessano di più e in effetti sta funzionando perché io sto facendo tanta roba vicina a quello che voglio fare ecco sto prendendo molte meno commissioni mi posso permettere di farmi di meno e questa è la cosa che più mi piace oltre al fatto che ad un certo punto quasi in modo naturale ho cominciato a respirare con i tempi che ci sono lì con la natura anche cosa che non poteva succedere in città è arrivato in un momento in cui anche non lo potevo permettere perché io adesso ho 58 anni quindi ho una certa ci può stare questa cosa ecco era una cosa che mi frullava in testa da un po' di tempo sta funzionando per ora però io sono un'anima in pena ho girato da 20 anni sono sempre in movimento quindi non si può mai dire con me Andrea ti volevo chiedere due cose vai tu ci hai abituato comunque che nelle tue storie soprattutto in una zanzara nell'orecchio lasci dei camei no? qualche autore a te caro che ti ecco qui diciamo che ancora non l'ho individuato ma so che c'è qualcosa c'è una citazione di Attilio Micheluzzi che è uno dei più grandi autori di fumetti italiani di tutti i tempi perché era uno che faceva il fumetto con il ritmo popolare cioè faceva aveva una produzione vastissima rossissima riusciva addirittura si racconta a disegnare e a chiudere sei pagine al giorno un'enormità di quella qualità perché è una qualità sempre super altissima perché sapeva secondo me calibrare i neri in modo piuttosto naturale cioè gli veniva comodo fare in quel modo poi perché raccontava delle storie che lui conosceva perfettamente lui era stato un militare e quindi sapeva raccontare le cose dei militari facendole apparire vere scriveva benissimo e usava tantissimo le didascalie e c'è dentro il racconto una citazione di una serie che si titola Air Mile la storia di un di un pilota che porta appunto la posta con l'aereo con i piccoli aerei a a eliche e ad un certo punto si ritrova con l'aereo che cade in una foresta arriva una una tempesta arriva una macchina che sta quasi per investirlo e lui in una didascalia dice sono fregato e fregato lo scrive con f.r.ep che io ho utilizzato nel racconto del Love Meteorite è ben nascosta però sta cosa anche per intenditori se fosse sì anche per intenditori però intanto ho cominciato a dirlo su Fumetologica ho detto che c'è questa citazione quindi qualcuno sarà andato a cercarla e ci tenevo perché comunque lui è uno di quelli degli autori che ancora guardo che ancora leggo che ancora mi piacciono Prate per esempio che è stata una mia grande passione lo leggo più ormai con fatica perché lo trovo troppo verboso troppo lento invece lui è perfetto scrive il giusto racconta il giusto disegna quello che c'è da raccontare c'è un decoupage meraviglioso sono dei piccoli film a fumetti davvero funzionano benissimo a proposito di natura e di provincia no? c'è una c'è anche una rappresentazione della delle opere umane di di aziende umane c'è anche un riferimento a quello che era il passato di questi posti tu pensi alla cantina sociale? sì la cantina sociale che esiste ancora e che è questo monumento ormai inutile appena fuori il paese e appena prima del mio di paese diventa un segnale per chi passa da quelle parti lì e questa cantina sociale che un tempo aveva una cooperativa e in cui praticamente tutti quelli che facevano vino portavano lì per vinificare è fallita e getta un'ombra grave su i rapporti tra le persone perché cioè far fallire una cooperativa di quel tipo è come dire siamo più collegati ognuno pensa per se stesso è un po' triste questa cosa qua quindi quando parlo della cantina sociale con le lettere scorstate appese per voglio raccontare questa cosa qua come un po' anche i nostri rapporti perché è vero che si cresce è vero che si cambia è vero che le cose diventano diverse ne parlavo prima con Alice c'è un momento c'è un momento in cui le cose cambiano esiste un momento in cui le cose cambiano sicuramente sì però non ci si rende conto di qual è quel momento in cui le cose cambiano ci si rende conto dopo perché si è arrivati ad un punto in cui sono diverso io e è diverso l'altro e a quel punto bisogna tornare indietro per trovare il punto in cui le cose sono cambiate può esistere un momento se si è fortunati di incocciarlo questo momento qua in cui le cose cambiano e ne sono affascinato perché effettivamente questa è una cosa che continua a girarmi intorno ecco ho un piede nel passato e un piede sempre nel futuro e non riesco mai ad essere veramente zen non sono mai nel momento presente sono ancorato con i ricordi e sempre con dei progetti che vanno e la preoccupazione è che magari cioè tu col tuo sguardo hai colto questo 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 aspetto qua e magari la gente che vive lì non cioè ormai è difficile per loro perché comunque anche per i genovesi non lo percepiscono più ormai è così perché chi sta dentro una cosa non la riesce a vedere bene bisogna prendere una distanza io posso raccontare Genova adesso a distanza di anni oltretutto perché ne ho preso una distanza quando ritorno e trovo incontro i protagonisti di quell'epoca per loro non c'è stato un passaggio per loro il tempo ha viaggiato come un fiume incontro ancora adesso uno dei personaggi uno dei cantanti dei Sensa Show e e mi accorgo di questa cosa sento che per lui che lui è invecchiato dentro questa questa onda ecco invece io che sono andato via naturalmente ho perso qualcos'altro certo quindi però mi posso permettere di avere questo sguardo grazie a tutti